benvenuti allo stand adidas outdoor siamo qui per presentare la nuova terex busta la nuova scarpa da mountain running della linea adidas outdoor la particolarità di questo modello è che ha l'intersuola nel nuovo materiale busta un materiale che è stato introdotto nel 2013 ed è presente all'interno già della linea running a proda anche nell'outdoor un materiale che è capace di dare un enorme ritorno di energia che è fondamentale per le gare mountain running o comunque le lunghe gare di trail running un'altra particolarità di questa scarpa è la suola continental capace di dare il miglior grip disponibile dall'alidas outdoor e con un disegno che è capace anche nei terreni più morbidi penetrare all'interno del terreno per migliorare il grip un'altra cosa importante che fa di questo modello diciamo la rende unica è la tomaia una tomaia con effetto calza molto molto comoda ma allo stesso tempo molto protettiva i lacci allociatura lapida speed lace sono in grado di avvolgere il piede e garantire la stabilità calza molto comoda calza calza calza